Grazie a tutti. 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 a tutti. vai a tutti. 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 . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. 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 . . a tutti. a tutti. . a tutti. . a tutti. a tutti. . a tutti. . 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 Per dire, no! Inizia! Bene! Bene, dai! Un po' più che il 4 c'è un'altra... Bravo! Bravo! Guardi, guardi, riesce dalla volta a gol! Usiamo dalla volta a gol, siamo sempre stati, dai! Guardi! Guardi, guardi, guardi! 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 Guardi, guardi, guardi! Guardi, guardi! Guardi ho messo! Guardi i piedi, l'ha imbrogliata... Guardi, guardi! Guardi! ...vurmo! e la mano va bene tagli un piede se no vedevi la mano invito sempre il piede il piede il piede il piede il piede Ehmà, arriva! Uncuo arriva! Ehmà, ehmà! Arriva! 2 volte già posso fare, poi i due eri c'è impiegato, ma magari ho assunti, no? Solo, solo, se vuoi, se vuoi, Albiri! Bravo, bravo, mamma mia santa! Allora, vai, attenzione, attenzione, difesa! Bravo, bravo, dai! Sali, sali! Sali, attenzione, bello! Cos'è? Oh! Sali, sali! Attenzione. Pippo, il campione te l'hanno ancora dato. Pippo, il campione. Pippo, il campione è quello che è arrivato ultimo. Siamo, siamo! Ehi! Vici! Ehi! Ehi! Sulla testa, sulle spalle. Sulle spalle e tu, eh! Si! È girato, è girato! È girato! È girato! Ehi! Due! Due ragazzi! Il fatto che gioca! Oh! Due! 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 Un altro! Oh! Vado dentro! Sono quello che arriva, quello che arriva! Oh! Uno qua! Una forza! Ehi! Allora, un altro uomo! Oh! Ehi! 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 Poi hai fatto crescere così in Italia. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì.